Tuart e Hostess, facchini, autisti, addetti agli accessi e all'Infopoint, addetti alla cassa. Sono questi i ruoli per i quali centinaia di giovani si sono radunati al centro civico di San Vito a Lucca per la giornata di reclutamento in vista dell'edizione 2024 del Lucca Comics & Games che si svolgerà dal 30 ottobre al 3 novembre prossimi. L'obiettivo è quello di assumere fino a mille giovani che abbiano compiuto 18 anni. Stamattina siamo qua molto contenti perché questa collaborazione insieme a Lucca Crea e l'Informa Giovani stiamo dando la possibilità a molti ragazzi di venire qua e collaborare insieme a una nostra partecipata importante che è quella che organizza Comics & Games, la possibilità di fare alcuni giorni di lavoro che magari anche per tanti studenti può essere un'occasione per avvicinarsi a un mondo che conoscono e che amano, che è quello dei fumetti e diciamo del movie. Per quanto riguarda l'Informa Giovani è importante questa collaborazione noi da quando ci siamo insediati stiamo spingendo molto sul fatto che vogliamo che l'Informa Giovani sia informazione ma al tempo stesso vogliamo creare delle condizioni per cui tanti ragazzi possono trovare anche lavoro, comunque avvicinarsi al mondo del lavoro e questa è una di quelle. Grazie.